Sorridi Fabrizio? Ok. Una volta entrato la discoteca effettivamente si ferma a guardarlo e fotografarlo. Lui accendendosi una bella sigaretta se la gode. Davanti a Corona perfino una ragazza in costume dentro una megacoppa di champagne viene schifiata. Se ti pago mi fai una foto con Fabrizio? Ma non è una macchina fotografica. Cazzo, come faccio parte di fare con una fotografia? E non lo so. Fabrizio? Mi faccio molto con te. Hai 15 anni che ti seguo. Ad un certo punto arriva una bottiglia di vino particolare. E' il vino Fabrizio Verona.